Cosa sono le sportiedi? Le sportiedi sono un evento che abbiamo inventato insieme ad un gruppo di amici 13 anni fa, fermo per due anni per il Covid, e raggruppa tutti gli sport che il CSI propone nell'anno sportivo sul territorio. Partire dalla tredica leggera, le 26 gare di corsa su strada, i gabionanti di pallacanestro, pallavolo, calcio e tante altre discipline, fra cui discipline oratoriali, perché noi siamo molto presenti negli oratori, e quindi abbiamo tennis tavolo, biliardino e altre attività che caratterizzano questo evento. Quest'anno poi, con l'aiuto dell'amico di Giosafatte, abbiamo potuto ampliare questa proposta delle sportive di Acchieti con tanti eventi culturali, ricreativi, anche con la riscoperta degli sport popolari, ed anche da un punto di vista artistico, con serate evento di band musicali. Poi c'è una cosa molto importante, ed è le Olimpiadi degli Oratori, il 3 luglio, che si concluderà con una santa messa, a cui parteciperanno i cori della diocesi di Chirivasto. Dal punto di vista artistico abbiamo pensato di associare all'evento sportivo, che naturalmente è il clou di questa attività, una serie di appuntamenti legati alla musica, legati al canto, legato alla presentazione di libri, e a convegni. Quindi la popolazione che vorrà con noi essere presenti in questi giorni di festa dello sport potrà anche giovare di momenti di cultura e, perché no, di divertimento e sana passione. Siamo molto soddisfatti, tenevamo a che le sportivi si svolgessero nella nostra città, un grazie va chiaramente al CSI, a Mimo Puracchio, per l'impegno, per il lavoro che quotidianamente svolge e soprattutto per aver messo in atto con lui un'azione sinergica a volte a portare nella nostra città un appuntamento che va in linea con quello che è il cartellone degli eventi sportivi di quest'estate, ossia lo sport nelle strade, lo sport nelle piazze, lo sport come strumento di aggregazione e come veicolo di ripresa.